Nijangrandi subentrato al primo della ripresa, attenziamo intanto Ghebre, Ghebre in area, Ghebre in area, si ferma Ghebre, Ghebre! Doppietta personale per Abdul Ghebre contro la sua ex squadra, 6-0 con tanto di dub e si va ad arrabbiare Bini con lui, arriva Ricchiuti. Sì, questa è stata veramente un'occasione in cui i giocatori del Mendola si sono un po' arrabbiati.